Ciao creatura benvenuta in questo mio nuovo video ASMR sotto lo stesso cielo di Porto a passeggiare in questo mercatino vintage ti mostro tutto ciò che ho visto un po' da vicino un po' da lontano proprio come piace a te poi andremo a fare un giro in auto e vedrai verde della campagna i fiumi la dica tanti tanti alberi tanta vegetazione il cielo azzurro e limpido spero spero che questo video ti faccia rilassare ti metta tranquillità e qui ho trovato un sacco di pipe un sacco di pipe un sacco di pipe iscritti e attiva la campanellina per non perderti neanche uno dei miei video e se ti va condividi questo video con gli altri ai tuoi amici o chiunque ovunque sempre così tante altre persone tante altre persone potranno rilassarsi il nostro regno di guzzai i s m r si riempirà di tante simpatiche e rilassate creature più più le creature saranno rilassate più il mondo sarà migliore ok questa mi aveva troppo tirato l'attenzione erano tipo quelle le aschiette per i cuori ma illiterate cioè poi non so come fosse possibile ma mi facevano troppo ridere lì ci sono i libri qui invece articoli per biciclette 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 sta indossando le cuffie creature e ti sei messo comoda? spero di si altrimenti non potrai goderti questo video questo audio biciclette 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 io sto cercando oggi in questo mercatino un cestino per la mia bicicletta che ho pimpato era una vecchia bicicletta tutta arrugginita destinata ad essere buttata via cestino e la tutta modificata per poterlo usare mi manca il cestino però vorrei metterci un cestino davanti così che io possa appoggiarci all'interno se è la mia borsa che è molto grande come hai visto dai miei video what's in my bag cosa c'è nella mia borsa smr e perché ho sempre bisogno di tutte le mie cose e se la tengo finché vado in bici mi ammazzo perché è pesantissimo quindi andrei decisamente meglio con un cestino in più poi se dovessi andare tipo a fare la spesa a comprare qualcosa potrei metterlo sempre nel cestino insomma il cestino è di fondamentale importanza per me e mi serve un cestino con i canici da poter mettere davanti però qui in questo mercatino ho trovato solo dei cestini per il portapacchi e non andava bene quindi dovrò continuare la mia ricerca per un cestino della bicicletta un giorno ti vorrò vedere la mia cicletta e l'ho fatta tutta nera ovviamente ciao ci sono io allo specchio l'ho fatta tutta nera poi ho comprato in un mercatino in un mercatino ho comprato tutto il mercatino per pimparla quindi dovrebbero essere scarpe di ritorno al futuro se non sbaglio ogni volta che ci posso con la banca dell'allea ogni volta penso se sono quelle e beh che sto dicendo ho preso le manuboline si chiamano così del manubrio verdi ovviamente poi ho preso un sellino nuovo e però purtroppo ce n'era uno nero e uno marroncino mi sarebbe più quello marroncino ma alla fine ho siccome era di spugna e se pioveva ogni volta che piove con quei selline lì assorbono tutta l'acqua allora ho preso quello marrone che è tipo di pelle è meno morbido meno comodo ma almeno se si bagnano diventa una spugna piena d'acqua che quando fai sederti il giovane ti salta il panolino ok stiamo già tornando a casa come puoi notare ho abbassato il finestrino così che tu possa godere il meglio di questo panorama la luce è molto 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 intensa ma spero che non ti dia fastidio è bello il sole scalda si può intravedere che io sono dalla parte della videocamera e sto mangiando perché lo si vede dallo specchietto quel giorno avevo fatto della focaccia però avevo fatto una focaccia con sopra della pancetta fumigata a tadini e metà invece era quel formaggio del fontal quello con la crosta rossa che è uno dei miei preferiti dell'Ital e insomma siccome quando torniamo a casa è sempre ora di pranzo spesso mi piace fare tipo pranzo al sacco e mangiamo in macchina finchè torniamo a casa e quindi stavamo mangiando questa focaccia è probabile che tu possa intravedere dei movimenti strani per lo specchietto insomma io che sto mangiocchiando finchè io faccio la ripresa per te a me ti piace così ti piace così è il nostro come rito di della domenica c'è chi va a messa c'è chi va al mercatino e mangia in macchina così è bello a me piace tanto piace piace l'ho provato comunque l'acqua come vedi questa è tutta campagna bellissima verde ed oro 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 verde e oro campagna non c'è non c'è neanche una nuvola in cielo il cielo è sereno come i tuoi pensieri devono essere limpi e sereni ci sono dei cani che abbaiano ma non è nel video è fuori dalla mia finestra che non l'ho chiusa perché altrimenti sarei molto calda ma forse avrei dovuto sacrificarmi e chiuderla vabbè non importa spero che non ti giano fastidio come vedi lì c'è un boschetto di alberi ci sono tanti tanti alberi tanti 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 alberi tanti 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 alberi eccolo un corso d'acqua un corso d'acqua un corso d'acqua un corso d'acqua e tanti 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 alberi tanto verdes ci stiamo avvicinando ho fatto una chiusa, una tica, ci sono le macchine perché le persone vengono a pescare qua eccola qua, un po' a me piace, non so te, ma a me piace ciò che vedi dal finestrino prendiamo la strada per andare a casa, tu invece prendi la strada, io adoro questa strada, è tutta piena di alberi, tutto verde ed è oh mio dio come entrare nel regno dei sogni, è ciò che stai per fare creatura, stai per entrare velocemente nel regno dei sogni eccolo, lo vedo, è qui vicino, non manca molto, anche tu prenda sogni, ti stai per addormentare così rapidamente perché questo video ti ha piaciuto un sacco e voi altri quindi lasci tanti commenti dicendo se tantissimi avvi video perché mi ha piaciuto un sacco mi ha fatto rilassare, adesso andrò a dormire con i pensieri sereni, basta pensare a nulla perché domani sarà una bellissima giornata ah sì, tutta la settimana sarà una bellissima settimana, non so perché sarà così, perché darai meglio di te stesso per essere sempre positivo perché io andrò tutto bene, anche quando andrò a dormire, andrò tutto bene perché tu non ti arrenderai male andrò tutto bene di combattere sempre per i tuoi sogni per te stesso, andrò tutto bene una notte creatura